Pencil Feeder Le Pencil Feeder sono canne in due pezzi, nelle misure 9, 10, 11 e 12 piedi. Sono canne che montano una placca porta mulinello ergonomica, perfetta per avere una presa veramente comoda, e anelli in minima, i quali ci consentono di utilizzare qualsiasi tipo di monofilo, anche con la presenza di shock leader. Sono canne molto sensibili, in fase di recupero del pesce, in fase di lancio e in fase di lettura della mangiata, poiché montano una vetta veramente sottile, dal diametro di base di 2,2 mm, nelle misure 0,75, 1 oncia e 1 oncia e mezza. Sono canne dall'azione medium light e quest'azione ci consente di fare qualsiasi tipo di pesca a qualsiasi tipo di pesce, sempre parlando di feeder fishing, sia in acqua dolce, sia in acqua salata, perché grazie alla sua azione possiamo utilizzare anche terminali veramente veramente molto sottili, in acqua molto limpida. Sono canne dal rapporto qualità-prezzo veramente eccezionale, viste le componentistiche che questa serie di canne monta. Vi consiglio di andarla a vedere, un abbraccio e ci vediamo nel prossimo video.